Tra questi scritti, i più antichi conservano l'impronta netta dell'Egitto dei Ptolomei. Seguono dei formulari, nei quali si dispiega un sincretismo giudaico-egiziano, essi appartengono ai primi secoli della nostra era, stando all'età dei papiri che li hanno portati alla luce. Nel corso del II secolo, questa letteratura popolare cede il posto all'ermetismo filosofico, in cui si stempera l'ornato egizianeggiante. In seguito, a partire dal III secolo e da Zosimo, l'ermetismo popolare, occultista e alchimista ritorna in primo piano, ma solo in compilazioni in cui la primitiva vena sembra esaurita perché, al suo fianco, ha guadagnato un rilievo importante l'ognosticismo dualistico. Nascono così i trattati bizantini, le antologie che prolifereranno trasferendosi, ben presto, negli ambienti arabi e latini. Con i suoi protagonisti, i suoi miti, i suoi ornamenti, la letteratura ermetica intende essere egiziana. Questa presunzione, almeno per alcuni antichi testi, si basa su una certa conoscenza dell'Egitto tolemaico o romano, una conoscenza che è reale e non va sottovalutata. I profeti, non si tratta di dèi, l'ebemerismo è passato di cui, tramite la cui bocca l'ermetismo pretende di essersi espresso, sono greci o egiziani. Nonostante la vaga identificazione delle maggiori di esse con l'ermete di Cillene e con Asclepio, queste figure risalgono quasi esclusivamente a modelli egiziani. Basta aprire Varrone o leggere lo pseudomanetone per constatare come una tradizione, universalmente nota e che risaliva ai primi Ptolomei, narrasse che a Thoth, il primo ermete, che sarebbe vissuto prima del diluvio, era subentrato dopo il cataclisma il secondo ermete, il Trismegisto, quindi il figlio Agatodemone o Camefis, e poi il nipote, Tar. In questa discendenza si inserivano anche Cnefis, Osiride, Iside e Orus. Questi personaggi vengono esplicitamente nominati nella Core Cosmo, sarebbe stato il grande ermete ad insegnare a Cnefis i segreti che Iside, a propria volta, rivela ad Orus, anche gli nipote di Agatodemone. Questa genealogia è squisitamente egiziana. Proviene forse dalla cosmologia di Ermopoli, della quale non è giunta fino a noi alcuna esposizione diretta. In ogni caso, essa concorda con la visione tebana di questa cosmologia, molti passi della quale si possono leggere nei testi geroglifici di Carnaco del Tempietto di Medine Tabu. Altri particolari di questa cosmologia sono stati conservati in alcuni trattati ermetici o in certi scritti neoplatonici, come vedremo più avanti. A Tar sarebbe succeduto Imutes, identificato con Asclepio, un personaggio autentico della storia d'Egitto, che fu l'architetto e il medico del re Diosere la cui tomba venne venerata per due millenni nella necropoli di Menfi, dove in seguito venne sostituita con un tempio. Questa associazione della geografia menfita con le cosmologie di Tebe e di Ermopoli non fu, quindi, frutto d'invenzione dei compilatori greci degli scritti ermetici.